Un brellone in meno per rispettare il distanziamento e le norme anti-covid, fanesi che rimangono in città e posti mancanti per i turisti in spiaggia. È lo scenario che si sta prospettando sul lungomare, una situazione che si potrebbe aggravare nel mese di agosto e che ha scatenato diverse polemiche, in particolare di chi ha scelto Fano come destinazione balneare per le proprie vacanze. Per risolvere il problema, Alberghi Consorziati oggi ha presentato alla stampa una proposta già inoltrata al Comune. Si tratta della possibilità di avere in concessione 30 metri lineari di spiaggia adiacente ai Bagni Sergio, a Sassonia di Fano, dove verrebbero installati una sessantina di ombrelloni con lettini e docce e verrebbe garantito il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti. Vedremo naturalmente la spiaggia è dedicata al turista, naturalmente quello che avrà il compito di seguire la concessione avrà le pronotazioni tramite gli alberghi, tramite i bed and breakfast e tutte le strutture ricettive. Ma se il fanese, perché noi non vogliamo ghettizzare il discorso turismo, però può essere anche quell'isola felice dove noi faremo presentazioni anche alla stampa, dove verrà dedicata ai prodotti tipici dell'entroterra. La sera si può fare una serata di degustazione, si può fare quello che pensiamo di fare un'isola felice. L'area verrebbe denominata la spiaggia del turista, prosegue il presidente Luciano Cecchini. Ho pensato a questa soluzione, ci racconta guardando l'esempio di Montecatini, dove è presente il club del turista, ovvero un bar dove si possono trovare i prodotti tipici sia locali sia dei territori limitrofi e introterra compreso. Inoltre alberghi consorziati sta pensando di coinvolgere anche altri comuni della provincia di Pesero Urbino. Un protocollo di intesa tra Gabicce, Pesero, Fano e Marotta, dove naturalmente i comuni con l'accordo tra i bagnini, gli alberghi e le strutture ricettive prenderanno in visione tutto quello che serve sulle spiagge per i turisti. Ora si attende l'ok del comune? Sì, stiamo aspettando l'ok del comune, noi siamo pronti, noi siamo pronti anche da domani mattina. Se il comune ci dice ok, noi abbiamo già fatto degli accordi sia con le aziende che producono materiale sia anche con dei bagnini qui vicino, perché naturalmente dobbiamo essere tutti uniti e portare un successo a questa città.